Nell'ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, i militari e il nucleo di polizia economico-finanziare e la Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato nel comune di Santa Anastasia 45.000 litri di gasolio di contrabbando, 10.000 litri di benzina, un deposito commerciale e un'autocisterna. Durante i controlli svolti lungo le principali arterie stradali è stato individuato un autoarticolato sospetto diretto verso un deposito commerciale di proprietà di una società esercente, il commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi. Dopo che il metodo ha raggiunto il deposito sono state avviate le operazioni di scarico del gasolio trasportato. Insospettite alla circostanza, i finanzieri e il capoluogo partenopeo hanno fatto ingresso nell'area di stoccaggio per effettuare un controllo qualitativo e quantitativo del prodotto, nel frattempo parzialmente riversato in alcuni serbatui interrati. Durante le attività nessuno dei soggetti presenti in loco è stato in grado di giustificare la presenza dell'auto articolato né tanto meno di esibire documenti di trasporto comprovanti la lecita provenienza del gasolio. Le attività ispettive stese a tutto il deposito hanno consentito di rilevare la presenza di un ulteriore consistente quantitativo di benzina non giustificata contabilmente. L'autista del mezzo e il rappresentante legale del deposito commerciale sono stati denunciati a piede libero alla Procura e alla Repubblica presso il Tribunale di Nola per i reati di stottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa, nonché per irregolarità nella circolazione dei prodotti energetici e per violazione alla normativa in materia di prevenzione incendi, in quanto il deposito era sprovvisto e l'autorizzazione dei vigili del fuoco.